Arriva un'altra rotatoria, via il semaforo da Viale Europa, approvata la fattibilità dei progetti per la realizzazione della rotonda all'incrocio con via Bandettini, ora si dovrà scegliere la soluzione migliore. Romance scam, truffano una donna e le sottraggono 9.000 euro, le responsabili del raggiro internet a sfondo romantico, altre due donne, sono state individuate e denunciate dai carabinieri di Castiglione Garfagnana. Mobilità via al tavolo tra i comuni della Piana, a Palazzo Orsetti parte il confronto tra gli amministratori, sul tavolo anche la richiesta di gratuità del tratto autostradale tra Lucca ed Alto Pascio. Triplone Massese, viareggio eliminato nei 32esimi di finale di Coppa Italia, netta affermazione degli apuani con un euro-gol di Berti Pagani e doppietta di Goh nella gara giocata al buon riposo di Seravezza. Springa fatica ma ingranano la sesta, prosegue a punteggio pieno la marcia delle biancorosse che battono la CMB Valdarno in una gara più difficile del previsto. Sabato al pala tagliate la super sfida con la Nico Basket. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi di Lucca e della Valle del Serchio. Partiamo da Lucca, una notizia importante per gli automobilisti perché arriva un'altra rotatoria nell'immediata periferia lucchese su un incrocio particolarmente importante e trafficato, quello di Viale Europa. Vediamo. È uno degli incroci più trafficati dell'immediata periferia di Lucca, ma anche uno dei pochi ancora regolato dai semafori. Anche qui però l'impianto semaforico sarà sostituito da una rotatoria. Il Comune di Lucca ha infatti annunciato di aver approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione di una rotonda tra il cavalcavia di Viale Europa e via Bandettini. Si tratta del documento indispensabile a realizzare la progettazione definitiva e poi quella esecutiva dopo aver valutato tutte le varie possibilità in campo ed aver scelto la migliore, quella che verrà messa in atto, ha precisato l'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani. Il progetto è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 per un importo di 505 mila euro e il Comune vuole aprire il cantiere nel 2025. Andremo così a togliere uno dei semafori più trafficati della nostra rete stradale, ha concluso ancora Buchignani, fluidificando il flusso dei veicoli con gli effetti di miglioramento che abbiamo già visto in molti altri incroci dove siamo intervenuti. Andiamo alla cronaca, ci spostiamo in Alta Garfagnana per parlare della Romance Scam, una truffa a sfondo romantico che viaggia su internet. Ne è rimasta vittima una donna alla quale i malviventi hanno sottratto ben 9 mila euro. I carabinieri però sono intervenuti, hanno individuato e denunciato le responsabili del raggiro. Vediamo. I militari della stazione carabinieri di Castiglione Garfagnana, dopo la querela asporta da una donna, dopo approfondite indagini, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca due donne nigeriane di 34 e 29 anni. Avrebbero approfittato della fragilità emotiva della loro vittima e con l'inganno le avrebbero portato via la somma complessiva di 9 mila euro. Le indagini sono state condotte quando ancora era al comando della stazione luogotenente Ferrari, da poco in pensione. Il copione di questo inganno riprende un modus operandi assai diffuso, la Romance Scam, frode romantica, che mira a colpire principalmente persone sole ed indifese. Obiettivo è instaurare una sorta di relazione amorosa virtuale. Dopo qualche mese però arriva la trappola, convincendo la vittima a farsi inviare due bonifici per totali 9 mila euro che sarebbero serviti per farsi recapitare presso il proprio domicilio una cassetta di sicurezza piena di oggetti preziosi per consentire alla coppia virtuale di realizzare un futuro agiato insieme. Al mancato arrivo dei preziosi, nonostante il pagamento della somma e dopo anche l'insistente richiesta di ulteriore denaro, la donna ha finalmente aperto gli occhi, decidendo di rivolgersi ai carabinieri che, dopo complesse indagini, sono riusciti ad identificare le due presunte truffatrici. Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'infortunio che ha portato alla morte di Luca Cavati, l'operaio di 69 anni che ha perso la vita alla cartiera modesto Cardella di Lucca. Il Consiglio regionale in seduta a Firenze ha aperto l'assemblea con un minuto di silenzio e sull'argomento è intervenuto anche il Presidente della Regione Eugenio Gianni parlando della questione sicurezza sul lavoro. Sentiamo le parole del Presidente della Regione. Io ritengo che sia stata un'esperienza importante quella dei protocolli che in questi anni, ad esempio sulla specificità del tessile a Prato, hanno consentito da parte nostra di mettere a disposizione il personale, soprattutto il personale delle Asle, con la Procura, le Forze dell'Ordine, tutti impegnati in uno sforzo sinergico delle istituzioni a tutela della sicurezza del lavoro e della regolarità con cui poi i contratti di lavoro portano le maestranze a operare. È uno sforzo da continuare e sviluppare anche proprio nella specificità delle cose che vengono in evidenza. L'abbiamo visto anche con quello che è accaduto sul piano dell'intimidazione acquarrata e quindi giusto contratti come poi sono emersi che diano più trasparenza e più salvaguardia e garanzia per i lavoratori. Dall'altra parte sul piano della sicurezza, un impegno che la Regione non solo ha messo ma che continua e rafforza proprio perché la sicurezza è la condizione fondamentale per una visione di prospettiva di un lavoro che possa essere vissuto con la dovuta serenità per chi si trova a operare senza dover rischiare la vita come purtroppo sempre di più ogni giorno avviene e quindi la solidarietà alla famiglia di colui che oggi purtroppo per problemi di sicurezza nel lavoro ha lasciato la vita. L'infortunio mortale di martedì è stato uno degli argomenti dell'assemblea della Will, del sindacato Will che si è svolta a Lucca. Si è parlato anche dello sciopero generale in programma il prossimo 29 novembre. La protesta contro la legge di bilancio ma anche la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo l'infortunio mortale di martedì alla cartiera Modesto Cardella. Sono stati questi i temi principali dell'assemblea della Will territoriale della provincia di Lucca, svoltasi all'hotel Napoleon alla presenza tra gli altri del segretario generale regionale del sindacato Paolo Fantappié. Assieme alla CGL la Will ha proclamato lo sciopero generale del 29 novembre. In Toscana la manifestazione si terrà a Firenze, nel Mirino ci sono salari e pensioni troppo basse. Sostanzialmente noi protestiamo perché ancora proseguono le disuguaglianze in questo paese, una legge di bilancio iniqua che non risolve i problemi delle disuguaglianze. Abbiamo un paese che soffre, un paese reale che soffre, in particolar modo i pensionati, i lavoratori dipendenti. C'è stato un abbattimento del potere d'acquisto importante di 16 punti. Vogliamo un recupero dei salari e questa legge di bilancio non porta un recupero. Porta un taglio al costo, al fisco, certo che porta un taglio al fisco, ma è un taglio che è stato fatto due anni fa. Riproponiamo una riforma di due anni fa. Pertanto i salari del mese di gennaio 2025 praticamente rimarranno invariati rispetto ai salari attuali. Inevitabile poi il ritorno sulla tragedia accaduta martedì a San Pietro a Vico, dove un 69enne ha perso la vita in cartiera, travolto da un carrello elevatore. La tragedia di ieri intanto merita rispetto e cordoglio alla famiglia della persona che è morta e credo che ci imponga una riflessione seria su come si sta continuando a lavorare. Al di là delle iniziative spontanee, delle usciopero di oggi, che è andato spontaneamente sul dolore di quello che è successo, credo si debba fare un lavoro serio, convolgendo Prefettura, Regione e ASL, perché c'è bisogno di che ci sia l'ASL nei luoghi di lavoro, perché le regole, gli impegni, il lavoro dei rappresentanti sindacali nelle fabbriche con gli RLS non basta. Ci vuole un cambio culturale, ma ci vuole anche molti più controlli. A Palazzo Orsetti è andato in scena il primo incontro tra i comuni della Piana di Lucca per affrontare i problemi della mobilità. Dallo stop al pedaggio per residenti e mezzi pesanti sul tratto autostradale Alto Pascio-Lucca al potenziamento del trasporto pubblico locale, fino all'estensione della rete ciclabile. Sono alcune delle proposte discusse nel primo tavolo di confronto sulla mobilità della Piana di Lucca tenuta a Palazzo Orsetti, nel centro storico lucchese. L'iniziativa, promossa dagli assessori Santini di Lucca e Francesconi di Capannori, mira ad individuare soluzioni condivise per decongestionare il traffico. Un primo confronto importante, dove è emersa la necessità di affrontare in modo sistemico e collaborativo il problema, in modo da giungere a una linea condivisa con cui andare a coinvolgere altri enti, come Governo, Regioni, Società Autostrade ed Anas. All'incontro, oltre ai due assessori, erano presenti anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, quello di Capannori, Giordano del Chiaro, il primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari e la sindaca di Alto Pascio, Sara D'Ambrosio. Unico assente, il comune di Monte Carlo. Per la provincia, invece, c'era il vicepresidente Andrea Carrari. Il lavoro adesso proseguirà il prossimo 5 dicembre, quando si prevede di procedere con l'analisi e la valutazione dei dati dei flussi di traffico aggiornati, in base ai quali verranno delineate le prime strategie da adottare. Il comune di Lucca ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento di altri quattro alberi malati e pericolosi. In particolare, a seguito delle relazioni dell'agronomo, del comune, saranno abbattuti tre olmi nel giardino del Real Collegio e un altro olmo sul baluardo, la libertà sulle mura urbane. Rimaniamo a Lucca perché c'è stata polemica dopo il Consiglio Comunale che era stato convocato sulla questione della Palestina sulla guerra in corso in Medio Oriente. Ancora Giacomo Corsetti. È polemica sul Consiglio Comunale aperto sul conflitto in Medio Oriente che si è tenuto martedì 12 novembre a Palazzo Santini a Lucca. Una seduta nel quale si sono svolti molti interventi, ma solo degli ospiti, come quello di Giorgio Gallo, presidente del corso di laurea di Scienze per la Pace all'Università di Pisa, o Alessandra Vecoli del Forum per la Pace di Lucca. Il motivo? L'abbandono dell'aula da parte del centro-destra al termine della prima fase del Consiglio, quella dedicata appunto agli interventi esterni. Una decisione che non ha permesso la discussione di eventuali ordini del giorno. Non riscontriamo, hanno spiegato il capogruppo della maggioranza lucchese attraverso una nota letta dal consigliere Fava, la necessità di effettuare un consiglio straordinario dedicato a queste tematiche, che esulano dalla competenza territoriale. Questo non significa alzare le spalle di fronte a una questione di rilevanza assoluta, continuano, ma semplicemente riconoscere che non è questa la modalità congrua per trattare l'argomento. Siamo rimasti davvero allibiti, è invece la risposta della minoranza, nel constatare che la maggioranza di destra ha deciso di abbandonare l'aula. È vero, si tratta di problemi che non si risolveranno con una seduta del Consiglio Comunale, ma è anche vero che siamo soggetti politici e non solo amministratori. L'atteggiamento tenuto dai gruppi di destra è irrispettoso verso il Consiglio Comunale e rappresenta una vera e propria miopia politica. Fino a giovedì le sale d'attesa degli uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile di Lucca in via San Paolino si trasformano in un luogo dove è possibile venire a conoscenza delle problematiche legate al gioco d'azzardo attraverso i suoi stessi mezzi. L'iniziativa è della ASL in collaborazione con Lucca Crea. Nello spazio allestito si potrà interagire con un apparecchio creato appositamente per far riflettere sui dati e sull'impatto del gioco d'azzardo nel proprio quotidiano. Sarà presente anche il personale della ASL che spiegherà l'importanza di incentivare il gioco sano a discapito dei giochi che inducono alla dipendenza e alle problematiche ad essa legate. Altri due colpi messi a segno da Mimmo D'Alessandro per il Lucca Summer Festival 2025. Il 1 luglio in Piazza Napoleone si esibirà il gruppo metal americano dei Dream Theater. Domenica 27 luglio sarà invece la volta del chitarrista canadese Brian Adams. Chiudiamo con Barga e con gli studenti dell'ISI Barga che hanno incontrato il mondo della castagna. A scuola di castagne. L'istituto per la documentazione sul castagno e la ricerca forestale e l'associazione dei castanicoltori della Lucchesia e l'Accademia degli Infarinati propongono in queste settimane un corso per gli alunni delle quarte e quinte dell'istituto alberghiero di Barga dedicato alla castanicoltura, alla castagna e al suo utilizzo in generale. L'ultimo dell'incontro è stato dedicato alla farina di castagne ma anche alla castagna in cucina e all'abbinamento tra castagna e vino con l'intervento di Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio Doc Monte Carlo. Vino nuovo che sta cominciando a fare il supercorso, incomincia a essere piacevole, ha un po' di mousse, una leggera fermentazione ancora attiva e abbinato con i prodotti fatti con la farina di castagna è straordinario perché ripulisce bene la bocca e scalda bene il corpo. Ecco, è l'abbinamento matrimonio d'amore assoluto che non occorre studiarlo, viene da sé. Non sono mancati anche gli interventi di Elzo Bellandi, presidente della condotta Slow Food Garfagnana e Valle del Cerchio e del vicepresidente degli Infarinati Gian Piero Micheli. Il corso va avanti fino a dicembre. Oggi si fa una lezione sulla cucina, il corso è iniziato martedì 22 ottobre, si è già fatto la parte della biodiversità, le varietà delle castagne, la storia della castanicoltura, poi c'è stata una parte culturale, l'altra settimana con insegnanti qui della scuola, l'albero del pane e poi oggi è dedicato alla cucina, l'abbinamento col vino e i prodotti di prestigio sullo frutto. L'obiettivo finale è fare in modo che gli alunni possano sviluppare progetti e idee sostenibili per il settore, utilizzando un prodotto che può essere elemento dell'economia per il territorio. È tutto per la cronaca, ci fermiamo per un attimo di pubblicità e subito dopo la linea passa alla redazione sportiva.